vuoi avere più gioia e più fede e quanto la fede serve vuoi più fede allora devi leggere la parola di dio ma non solo devi pensare a quello che leggi cioè deve leggere per avere cose a cui pensare cose vere per avere fede poi devi riempire la testa di giorno con le verità di dio poi devi ricordarti di una cosa dio oggi è lo stesso dio che era nella bibbia è potente e sovrano e saggio e come satana non riusciva a fermare l'opera di dio nella bibbia per quanto provava lui prova oggi satana ma non riesce a fermare l'opera di dio vogliamo considerare continuare il nostro studio in atti oggi atti 14 se volete già trovarlo nell'ultimo sermone in atti 13 abbiamo visto paolo e bardama arrivare antiochi di pisidia dove predicarono nella sinagoga un gran numero di gentili e alcuni giudei credettero però i giudei increduli avevano invidia e perciò si opponevano molto alle cose dette da paolo e bardama contraddicendo e bestemmiando e poi istigarono una persecuzione contro paolo e bardama li scacciarono dai loro confini questo sembrerebbe una sconfitta ma in realtà paolo e bardama sono arrivati all'antiochia e non c'erano credenti in gesù cristo sono usciti lasciando una chiesa piena di credenti in gesù cristo e poi sono usciti per proseguire il loro viaggio che era la loro missione quindi non era una sconfitta il piano di dio è stato ad impiuto quindi arrivavano adesso a Reconio e vogliamo riprendere la storia a quel punto quindi arrivano a Reconio un'altra città atti 14 leggo versetto 1 ora avvenne che anche a Reconio essi entrarono nella sinagoga dei giudei e parlarono in modo tale che una grande folle di giudei e di greci credettero incredibile è incredibile allora come altre volte iniziano entrando nella sinagoga quindi tenete in mente che la sinagoga era l'unico posto dove la parola di dio veniva insegnato e non solo letto insegnato non c'erano solo giudei lì ma c'erano tanti greci non giudei perché loro avendo capito questo è la verità lui è veramente dio del mondo andavano andavano la per ascoltare la parola di dio non erano giudei non sono diventati giudei ma ascoltavano capendo lui quel dio di cui parlano è dio è l'unico dio e vogliono capire più di lui quindi avevano acquisito una certa conoscenza della bibbia questi giudei e allora visto che la bibbia di allora era quello che noi chiamiamo antico testamento prima di cristo parla molto del cristo che doveva venire tanti esempi di lui tante profezie di lui queste persone della sinagoga tutti aspettavano il cristo so che deve arrivare paolo e barman arrivando è arrivato e parlavano che gesù è quel cristo quindi noto una cosa qui loro cercavano le persone che stavano cercando dio quando in città c'erano le persone che cercavano dio e e chi andava alla sinagoga ha soprattutto i greci stavano lì solo per quel motivo loro andavano per primo la e io prego che dio ci porterà le persone che stanno cercando dio e così dio potente da salvare salvò un gran una grande folla di giudei e di greci la ariconio però abbiamo già visto dove dio opera satana opera e succede qua rilego versetto 1 ma questa volta aggiungo 2 ora venne che anche ariconio essi entrarono nella sinagoga dei giudei e parlarono in modo tale che un grande folla di giudei e di greci credette ma i giudei increduli sollevarono e inaspirarono gli anni gli animi dei gentili contro i fratelli i giudei increduli che non volevano accettare gesù come cristo opponevano duramente l'evangelo non solo loro stessi si oppongono a paolo e barma ma sollevarono e inaspirarono gli animi dei gentili dei greci cioè convincerono le altre persone della città di opporsi a paolo e barnava ripetutamente qui in atti leggiamo di una dura opposizione contro chi predica cristo chi parla di cristo e allora non dobbiamo noi essere sorpresi quando altri ci oppongono nel nostro ministero per il signore anzi dovremmo aspettare opposizione persecuzione una un'amica da un'altra città mia ci ha scritto dicendo ho invitato alcune persone in chiesa per sentire la bibbia e quasi mi hanno mangiato vivo mi hanno criticato e ma come osi fare questo si sono arrabbiati quando viviamo per cristo soffreremo per cristo non c'è vera vita cristiana senza sofferenza ma non dobbiamo sorprenderci quando c'è sofferenza se avete tempo da trovare primo pietro quattro primo pietro quattro da 12 a 14 notate quello che l'apostolo pietro dice a chi ha cristo molto utile un buon ricordo lui dice carissimi non lasciatevi disorientare per la prova di fuoco che è in atto in mezzo a voi per provarvi come se vi accadesse qualcosa di strano ma nella misura in cui partecipate alle sofferenze di cristo rallegratevi perché anche nella manifestazione della sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare se siete vituopriati per il nome di cristo piatti voi perché lo spirito di gloria e lo spirito di dio riposa su di voi da parte loro egli è bestemmiato ma da parte vostra egli è glorificato quindi dice non dovete essere sorprese quando soffrite per cristo fa parte di appartenere a cristo fa parte per quanto riguarda paolo e bardama nonostante l'opposizione non si tirarono indietro infatti versetto 3 ci dice che rimanevano tanto tempo lì anzi leggo versetto 3 essi dunque rimasero la molto tempo parlando francamente del signore il quale rendeva testimonianza la parola della sua grazia concedendo che segni e prodigi si operassero per mano loro nonostante la dura opposizione paolo e bardama non si arrendevano rimasero la molto tempo c'era una città contro di loro sono rimasti a predicare a insegnare e dice infatti una parola importante parlavano francamente del signore cosa vuol dire francamente vuol dire schiettamente senza timore senza mezzi termini parlare chiaramente nonostante che quello che tu dici viene contraddetto che ti dicono su che si arrabbiano si offendono tu parli chiaramente delle cose di dio ma sapete che paolo aveva difficoltà a parlare francamente paolo aveva difficoltà a parlare francamente vediamo questo perché più volte paolo chiede pregati per me che posso parlare francamente cioè se io non ho nessun problema io non chiedo preghiera chiedo preghiera quando mi è difficile e paolo chiese preghiera vi leggo Colossesi 4 3 e 4 chiedendo ai credenti pregare pregando nel medesimo tempo anche per noi affinché dio apra anche la a noi la porta della parola per annunziare il mistero di cristo a motivo del quale sono anche prigioniero in modo che lo faccia conoscere parlandone come devo pregati che posso parlare come devo parlare in Efessini 6 18 a 20 dice proprio di pregare che posso pregare con parlare con franchezza vi leggo pregando in ogni tempo con ogni sorta di preghiera e di supplica nello spirito vegliando a questo scopo dicendo quello che devono fare i credenti con ogni perseveranza preghiera per tutti i santi e anche per me affinché quando apro la mia bocca mi sia dato di esprimermi con franchezza per far conoscere il mistero dell'Evangelo per il quale sono ambasciatori in catene affinché pregate per me affinché io lo posso annunziare con franchezza come è il mio dovere fare quindi Paolo chiede preghiera pregate per me che posso predicare con franchezza non era facile per Paolo di pregare con franchezza era difficile e per quello che chiedeva preghiera allora io dico scusami se per Paolo era difficile è difficile per me e se lui aveva bisogno di preghiera io ho bisogno di preghiera lui chiedeva Giovanni prega per me che posso parlare con franchezza Stefania prega per me ti prego Adriano prega per me Daniele e Alessandra pregate per me e io pregherò per voi che possiamo pregare con franchezza non vergognandoci non tirandoci indietro non avendo timore o superando il timore di pregare l'unico e gli altri che possiamo parlare di Cristo con franchezza notate che qui a Ricconio Dio li concedeva di compiere segni prodigi come testimonianza per confermare quello che predicavano abbiamo visto già in altri sermoni qui in Atti vedendo anche altri brani come Ebrei 2 secondo Corinthians 12 12 eccetera che i segni miracoli era una conferma da Dio che il messaggio degli Apostoli era veramente da Dio che non c'era ancora il Nuovo Testamento allora tenete conto per due motivi le persone di questa città sapevano che quello che dicevano era la verità uno perché corrispondeva a quello che le profezie dicevano tutti quelli che frequentavano la sinagoga capivano si diceva quello è successo quello questo sarà il Cristo in più i miracoli dimostravano che loro parlavano da parte di Dio quindi era molto chiaro quindi coloro che si opponevano a loro non stavano opponendosi veramente a loro ma si stavano opponendo a Dio ed è la stessa cosa oggi quando uno si oppone si oppone non agli uomini ma a Dio però come abbiamo visto in altri capitoli l'opposizione che Satina suscitò qui non fermò l'opera di Dio ma piuttosto la faceva andare avanti leggo 4 a 7 atti 14 4 a 7 ora la popolazione della città fu divisa gli uni parteggiavano per i giudei e gli altri per gli apostoli ma quando ci fu un tentativo dei gentili e dei giudei con i loro capi di maltrattare gli apostoli e lapidarli essi lo vennero a sapere e fuggirono nelle città della Iconia all'Istra a Derbe e nella religione circostante e la continuarono ad evangelizzare la città era divisa di Iconia capivano che era la verità ma non volevano la verità certi di loro, tanti di loro e quindi si mettevano contro loro gli uomini sempre si oppongono alla verità di Dio soprattutto gli uomini religiosi ma in questo caso dopo un certo tempo i greci giudei che opponevano cercavano di maltrattare cercavano di lapidarli ucciderli e così di nuovo Paolo e Barna furono costretti a fuggire dalla città ricordate che erano già lì molto tempo non erano scappati dopo dieci giorni erano lì molto tempo tempo di fortificare i credenti che Dio aveva salvato lasciando Iconia andarono nella zona Iconia che sarebbe la città di Listra e di Derbe dove continuavano ad evangelizzare quindi la persecuzione non ha ostacolato l'opera di Dio dovevano andare dovevano andare in quelle città la persecuzione era solo come Dio ha gestito qual era il momento e quindi Satana cerca di opporre ma Dio vince allora avendo lasciato una nuova chiesa ad Iconio arrivarono a Listra e seguiamo la storia a questo punto leggo ancora da sei e poi fino a dieci essi lo venero a sapere e fuggirono nelle città della Licaunia a Listra a Derbe e nella regione Cicostante e la continuarono ad evangelizzare ora a Listra c'era un uomo paralizzato ai piedi che stava sempre seduto non aveva mai camminato essendo storpio sin dal grembo di sua madre costio di parlare Paolo che fissate gli occhi su di lui e vedendo che egli aveva fede per essere guarito disse in altovoce alzati in piedi e egli saltò su e si mise a camminare allora questo uomo paralizzato ascolta e sente Paolo predicare di Gesù il Cristo e ci crede crede in Gesù Cristo perché Paolo ha notato la sua fede quindi questo uomo aveva creduto per la salvezza e quindi avendo fede Paolo dice Dio può guarire lui perché Dio sta compiando miracoli tramite me allora Paolo nel nome di Cristo ordinò a lui rialzarsi in piedi e per fede l'uomo fu guarito in quell'istante miracolosamente di nuovo questo confermava alle persone di questa città l'istra che Paolo venivano da Dio la potenza di Dio era visibile in loro un miracolo strepitoso davanti agli occhi quale era la reazione delle persone vedono un miracolo allora a riconio si sono messi contro Paolo e Barnum cercando di ucciderli come reagiscono qui le persone leggo da undici a tredici quando la folla vide ciò che Paolo aveva fatto alzò la voce dicendo in lingua lacaonica gli dei sono discesi fino a noi in forma umana e chiamavano Parama Giove Paolo Mercurio perché era lui che parlava di più ora i sacerdoti di Giove il cui tempio era all'ingresso della loro città condusse dei tori con ghirlande alla porte e voleva offrire un sacrificio assieme alla folla allora nonostante che Paolo e Barnum avevano annunciato Cristo mandato da Dio e che avevano compiuto un miracolo nel nome di questo Cristo sicuramente perché veniva fatto così queste persone non attribuivano questo miracolo a Cristo la potenza di Cristo ma piuttosto ai loro falsi dèi e volevano credere che Barnum fosse Giove e Paolo fosse Mercurio infatti il sacerdote del tempio di Giove che era là vicino voleva insieme alla folla offrire sacrifici a questi uomini Paolo e Barnum credendo gli dèi e cosa vediamo in questo? prima è un'offesa a Dio qui vediamo la tendenza dell'uomo verso adorare venerare qualunque cosa che non è Dio vediamo la tendenza dell'uomo di attribuire miracoli guarigioni a qualcuno oltre a Dio in altre parole vediamo la tendenza dell'uomo verso l'idolatria ah ma questo è terribile ma era Dio prima che puntiamo il dito prima che puntiamo il dito a loro qualunque persona qui ha mai attribuito una cosa buona che è successa nella vita ad un falso Dio di nome Fortuna qualcuno ha detto per fortuna mi è andato bene per fortuna è andato così per fortuna qualcuno ha mai attribuito ad un falso Dio fortuna qualche bene certamente ci sono quelle che attribuiscono ad un cosiddetto santo un cosiddetto madonna una statua ma anche attribuire alla fortuna la fortuna sarebbe l'idolo più comune nell'Italia la fortuna e allora è terribile attribuire a qualcun altro il bene che solo Dio fa solo Dio fa bene ogni bene viene da Dio la Bibbia ci dice quindi bisogna attribuire tutto a Lui magari ugualmente terribile è di non attribuire a Dio che bello che bello quindi che bello questa cosa che mi succede ma non attribuisco a Dio anche quello è terribile bisogna riconoscere da chi viene e proprio riconoscere chi viene da Lui queste persone vogliono credo che sia stato dai loro dei falsi e credono che Paolo e Barma siano quei dei tornando alla storia ricordate una cosa in ogni zona parlava la loro lingua e però tutti o quasi parlavano anche il greco questa zona era stata conquistata da Alessandro Magno qualche secolo prima perciò il greco era la lingua comune poi ogni città ogni zona aveva la sua lingua Paolo e Barma non parlavano tutte queste lingue loro predicavano in greco che la gente capiva ma visto che dice qua che la gente parlavano in lingua la unica Paolo e Barma non capivano ma cosa stanno dicendo perché sono così eccitati cosa fanno poi arriva questo sacerdote facciamo un'offerta a questi dei davanti a noi e loro ma cosa stanno dicendo finalmente qualcuno traduce per loro scusami scusami cosa stanno dicendo e questa persona in greco racconta quello che stanno dicendo Paolo e Barma vanno fuori testa guarda le loro reazioni versetto 14 verso 18 ma gli apostoli a Barma e Paolo udito ciò si stracciarono le vesti si precipitarono in mezzo alla folla gridando e dicendo uomini perché fate queste cose anche noi siamo esseri umani con la vostra stessa natura e vi annunziamo la buona novella affinché da queste cose vane vi convertiate al Dio vivente che ha fatto il cielo la terra il mare e tutte le cose che sono essi nelle generazioni passate egli ha lasciato che tutte le nazioni seguissero le loro strade ma non ha lasciato se stesso senza testimonianza facendo del bene dandoci dal cielo piogge e stagioni fruttifere e riempiendo i nostri cuori di cibo e di gioia dicendo queste cose riuscirono astento a trattenere le folle dall'offrire loro un sacrificio quando scoprono quello che stanno facendo si stracciarono le vesti precipitarono in mezzo alla folla gridando loro di fermarsi quanto grande era il loro così grande era il loro desiderio di dare tutta la gloria a Dio che furono terribilmente agitati quando scoprirono che le persone volevano dare gloria a loro allora io voglio porre una domanda a ciascuno di voi la Bibbia dice che tutto quello che noi abbiamo le capacità l'intelligenza le forze la bravura tutto viene da Dio solo non abbiamo nulla per conto nostro poi perciò dice che Dio solo merita la gloria per quello che noi facciamo è come una cameriere che porta fuori un piatto di buon cibo non devono dire ma quanto sei bravo ma quanto sei bravo non ha fatto lui il cibo ha portato il piatto il cibo ha fatto il cuoco allora visto che Dio solo merita la gloria come reagisci quando le persone ti danno dei complimenti wow quando sei stato bravo quando sei stata brava hai fatto benissimo wow che bel voto hai fatto che buon lavoro hai fatto che bella foto hai scattato quello che è che bel piatto hai cucinato quando la gente ti fa complimenti come reagisci io prego che possiamo reagire come Paolo e Bardama guarda quel miracolo non è stato per il nostro potere è Dio guarda quello che ho fatto se sono bravo in qualcosa è Dio che mi ha dato questo non sono io è Dio noi abbiamo la stessa reazione di Paolo e Bardama che ci turba se qualcuno ci complimenta oh grazie tanto come se meritassimo noi cosa facciamo ringraziamo la persona wow grazie tanto sei stato bravissimo oh grazie grazie ho fatto di cuore rubando da Dio la gloria grazie a Dio Paolo e Bardama non erano così tornando a loro quando capiscono quello che fanno prima cosa che dico dicono noi siamo uomini e noi siamo qui affinché voi convertiatevi da queste cose vane cioè dice quello che voi fate è sbagliato quello che voi fate non è vero è falso allora è abbastanza diretto questo chiamare quello che loro fanno vano davanti a loro dovete convertirvi da queste cose vane e poi parlano di Dio come creatore guarda Dio ha lasciato le generazioni ha lasciato che tutte le generazioni seguissero le loro strade ah quindi non erano colpevoli no erano colpevoli certo perché avevano l'evidenza che c'è Dio già nella natura e avrebbero dovuto lodare quel Dio non sapendo tutto ma capendo che c'è un Dio e notate che parli di questo Romani 1 in Atti 17 Paolo si trova ad Atene e dove inizia il suo discorso il Dio che ha creato il cielo la terra e tutto quello che c'è in esse cioè tutti capiscono che c'è un creatore possono negare possono non pensarci ma capiscono basta guardare il mondo e questo rende tutti gli uomini inescusabili e quindi Paolo sta mostrando voi avete peccato contro il Dio che vi ha dato tutto quello che fate voi è tutto vano è un'offesa al vero creatore perché da Lui viene tutto è Lui che vi ha dato piogge e stagioni buone fruttiferi e cibo è Dio e voi avete creduto piuttosto nei vostri idoli questo è come loro predicano l'Evangelo e anche noi dobbiamo proclamare questa verità perché tutti sanno che c'è un creatore e dobbiamo mostrare dobbiamo dichiarare che devono rispondere a quel creatore allora con molto impegno riescono a stento a trattenere le folle da offrire loro un sacrificio le persone volevano onorare Paolo e Barnaba per questo miracolo fatto per mano loro non riescono a fermarli quanto velocemente la situazione può cambiare leggiamo 19 ora sopraggiunsero certi giudei da Antiochia e da Aconio essi dopo aver persuaso la folla lapidarono Paolo e pensando che fosse morto lo trascinarono fuori dalla città ad un certo punto arrivano dei giudei di Antiochi di Pisidia sapete quanto strada avevano fatto per arrivare qui? circa 150 km 150 km a piedi odiavano così tanto il messaggio di Gesù Cristo che avevano camminato fino a Aconio era qui ma non è qui più allora dove è andato? ma all'Istra andiamo lì prendono alcuni dei giudei di là e vanno fino all'Istra 150 km per cercare di ostacolare l'opera di Paolo e Barnaba e tanto a piedi che odio allora questa folla che prima voleva onorare Paolo e Barnaba adesso influenzati da questi giudei d'Antiochia lo lapidarono quanto facilmente le persone possono cambiare idea quanto facilmente passano da un'idea all'altro tu senti quante persone oggi dicono ti amo ti sposo e dopo non ti amo più quante persone dicono ah ci credo e poi non ci credo più cambiano idea in Efessini Paolo scrivendo alla chiesa di Efessini parla dell'importanza per i pastori e dottori di perfezionare i santi che loro possono fare il ministero e verificare l'uno l'altro e vi leggo per il perfezionamento dei santi i pastori e i dottori sono stati dati per quello per l'opera del ministero e per l'edificazione del corpo finché giungiamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del figlio di Dio e a un uomo perfetto completato alla misura della statura della pienezza di Cristo affinché non siamo più bambini spalottati e trasportati da ogni vento di doctrina per la froda degli uomini per la loro astuzia mediante gli inganni degli errori cioè se uno non è ben fondato viene spalottato da ogni vento di doctrina e errori credi prima questo poi credi quello poi credi quello cambia sempre idea perché non è ben fondato è importante che siamo ben fondati allora Paolo secondo loro morto lo trascinano e lui sa lì sembra morto lo trascinano il corpo lo trascinano per terra due uomini lo prendono lo trascinano fuori città lo lasciano fuori città così non fa puzza quando decompone riprendo la storia versetto 20 ma essendosi i discepoli radunati intorno a lui escono alla città oh Paolo Paolo egli si alzò e entrò in città e il giorno seguente partì con barba alla volta di derbe Dio è sovrano non era il giorno stabilito per Paolo di morire allora ricordate Stefano a Gerusalemme lo hanno lapidato e come succede quasi sempre muore è morto ma Paolo non era morto perché non era il giorno stabilito era Dio Dio è sovrano sulla vita e sulla morte e Satana non può far morire prima Satana non ha il potere di far morire nessuno prima del momento stabilito da Dio non ha quel permesso infatti Paolo sicuramente pieno di terribili lividi ma Paolo non solo si alzò e tornò in città ma il giorno dopo partì con barba per camminare 80 chilometri Dio lo aveva protetto e Dio proteggerà te e tu non morerai prima del momento giusto e non puoi far allungare la vita un secondo dopo il momento giusto possiamo fidarci totalmente in Dio e ma guarda Dio ha permesso Paolo di essere pieno di terribili lividi certo certo era il piano di Dio e Dio permette ai suoi figli tumori malattie incidenti stradali figli che muoiono e altre cose terribili ma Dio ci cura e non ci permette nessuna prova che non fa parte del suo piano per il nostro bene se siamo in Cristo quindi possiamo fidarci di Dio fidarci totalmente allora Paolo e Barba lasciano una città per andare in un'altra città andarono questa volta a Derbe circa 80 chilometri dall'Istra evangelizzavano là per un bel po' di tempo perché dice che molte persone sono state salvate poi tornarono indietro ripassando ogni città dove sono stati prima per fortificare i credenti che avevano lasciato leggo da 21 a 23 parlando di Derbe dopo aver evangelizzato quella città e fatto molti discepoli se ne ritornarono all'Istra ad Iconio e ad Antiochia confermando gli animi dei discepoli e esortandoli a perseverare nella fede e dicendo che attraverso molte afflizioni dobbiamo entrare nel regno di Dio e dopo aver designato per loro degli anziani in ciascuna chiesa avendo pregato e digiunato li raccomandarono al Signore nel quale avevano creduto dopo aver fatti molti discepoli a Derbe e possiamo presumere che erano anche stati fortificati tornarono dietro proprio la stessa strada di prima ripassando le città dove avevano stabilito chiese L'Istra e Iconio Antiochia nonostante che avevano subito dure persecuzioni in quelle città tornarono comunque il loro impegno non era di proteggersi il loro impegno era di compiere l'opera di Dio non pensavano loro stessi e io prego che ciascuno di noi possa avere al cuore il desiderio di portare gloria a Dio di non pensare così alla nostra vita il nostro lavoro il nostro carriere i nostri scuoli i nostri impegni i nostri hobby che possiamo pensare alla gloria di Cristo e chi pensa a Cristo sarà Cristo a pensare a Lui c'è un versetto che dice una cosa del genere Matteo sei cercate prima rendere Dio la sua giustizia e queste cose materiali che vi servono vi saranno sopraggiunte io prego che siamo pronti a subire qualunque cosa pur per portare avanti l'opera di Dio notate che Paolo e Barma fortificavano i discepoli in ognuna delle città come? allora notate prima che non parla di evangelizzare qui non escludo che è successo un po' ma parla del fatto che sono andati per fortificare i credenti ci sono momenti in cui bisogna focalizzare su una cosa e su un'altra cosa allora per edificare questi credenti dice che confermavano gli animi dei discepoli come si può confermare gli animi dei discepoli? facendo loro conoscere meglio le verità di Dio in modo da poter avere più fede per affrontare le difficoltà dobbiamo crescere nella conoscenza di Dio delle sue promesse della sua potenza del suo amore della sua opera così abbiamo più fede e le nostre anime sono confermati sono fortificati poi leggiamo che esortavano questi credenti a perseverare nella fede dicendo loro che attraverso molte afflizioni dobbiamo entrare nel regno di Dio parlavano chiaramente delle afflizioni della vita cristiana quanto è diverso questo di quello che viene predicato spesso oggi sia da predicazioni da apuscoli che parlano per evangelizzare oh Dio ti ama vuole benedirti vuole essere il tuo amico vuole accompagnarti nella vita vuole ascoltarti vuole proteggerti oh che bello perché la vita è piena di difficoltà io voglio l'aiuto di Dio così la vita sarà più facile invece il messaggio che Paolo e Barnum dava a questi credenti è attraverso non pochi molte afflizioni dobbiamo entrare nel regno di Dio è necessario è come Dio ci prepara per l'eternità quindi Paolo e Barnum incoraggiavano questi giovani credenti annunciando loro delle sofferenze che ci sarebbero in Filippesi 1.29 leggiamo a voi è stata data la grazia per amore di Cristo non solo di credere in Lui ma anche di soffrire per Lui la sofferenza fa parte del piano di Dio per purificare e fortificare la nostra fede non dobbiamo spaventarci dobbiamo essere pronti per le sofferenze che Dio manderà però se uno non ha Cristo le sofferenze solo schiacciano uno con Cristo può essere fortificato tramite la cura di Dio nelle sofferenze notate che Paolo e Barnum designarono anziani in ciascuna chiesa questo è il piano di Dio che la chiesa sia guidata da anziani che vengono chiamati anche pastori dottori e vescovi la chiesa era già una chiesa senza anziani diceva in ciascuna chiesa era già chiesa però come passo di maturità in base alle qualifiche che troviamo in primo tomotio 3 e Tito 1 loro hanno riconosciuto anziani e poi avendo confermato gli animi dei credenti avendo preparato loro per le afflizioni che sarebbero venute avendo stabilito anziani Paolo e Barnum pregavano digiunavano e poi raccomandarono al Signore questi giovani credenti noi dobbiamo curare ma non possiamo mai dare una cura totale né per sempre dobbiamo affidare a Dio i nostri figli può un genitore è possibile per un genitore di proteggere il suo figlio da ogni male è possibile no assolutamente no è possibile né quando sono piccoli né quando sono grandi quanto è importante sempre di raccomandare al Signore le persone per cui dobbiamo curare noi dobbiamo avere una cura ma non possiamo curare in tutto allora avendo completato la missione per cui sono stati mandati dallo Spirito Santo tornarono Paolo e Barnum a Antiochia per raccontare là ai credenti le cose che Dio aveva fatto leggo da 24 a 28 attraversata poi la Pesidia vennero nella Panfilia e dopo aver annunciato la parola a Perge Cesaro a Rattila poi di là salparono per Antiochia da dove erano stati raccomandati alla grazia di Dio per l'opera che avevano appena compiuta giunta là radunarono la chiesa e riferirono quante grandi cose Dio aveva compiuto per mezzo loro e come egli aveva aperto ai gentili la porta della fede e rimasero qui con i discepoli per parecchio tempo tornati da Antiochia alla chiesa da dove erano partiti radunarono la chiesa per quale scopo? cosa dice? per raccontare le grandi cose che Dio aveva appena compiuto volevano raccontare le opere di Dio e come aveva salvato tanti gentili è molto importante che noi raccontiamo le opere di Dio gli uni agli altri Dio fa cose nella vita di ciascuno di noi che gli altri non sanno io non so come tu hai passato la tua settimana non so quello che è successo se tu non me lo dici io non so e Dio ha operato nella vita di ciascuno che è credente ma gli altri non lo sanno se non lo dici e uno degli scopi del culto e grazie a Dio per altri momenti anche è di raccontare le opere di Dio che suscita più fede oh grazie a Dio tu sei all'opera magari ho avuto una settimana no e ho avuto poco fede e non ho riconosciuto l'opera di Dio grazie a Dio quando ci sono altri che possono raccontarmi e abbiamo bisogno di rifare questo gli uni con gli altri questo è uno dei modi più importanti che possiamo dare a Dio sacrifici di lode edificare gli uni gli altri allora in questo capitolo abbiamo visto ancora che Dio porta avanti la sua opera nonostante tutto quello che Satana fa per ostacolarlo nulla può ostacolare Dio e questo per me e prego per te è un'immensa verità che mi incoraggia quando tutto sembra nero quando non vedo nulla di buono perché sono ceccato in questo momento io posso per fede dire ma tu sei in controllo tu sei sovrano e tu stai andando avanti e questo libro ci aiuta a ricordare questo abbiamo visto l'importanza di parlare di Dio con franchezza ma abbiamo visto che perfino l'Apostolo Paolo chiedeva preghiera per questo e quindi è giusto che preghiamo gli uni per gli altri per franchezza e che poi parliamo con franchezza abbiamo visto che Paolo spiegava Dio all'Istra iniziando con il fatto che Dio è creatore colui che provvede tutto quello che abbiamo questo è come noi dovremmo parlare con la gente di Dio è veramente importante qui in Italia dove le persone hanno un concetto molto storto di Dio che non è vero Dio che parliamo di Dio iniziando con il fatto che è creatore da cui dipendiamo per tutto abbiamo visto l'importanza confermare e fortificare i credenti non con tante belle parole ma parlando delle benedizioni che abbiamo in Cristo e che ci saranno sofferenze ci saranno afflizioni ma Cristo sarà fedele a curarci infatti infine abbiamo visto l'importanza di glorificare Dio raccontando agli altri le opere di Dio Dio opera in te ogni settimana è importante che tu racconti questo ad altri in casa fra fratelli e sorelle e poi al culto non tacciamo c'è da dire ogni settimana impariamo a dire sopra ogni altra cosa ricordiamo che come abbiamo visto qui in Atti è vero anche oggi grazie Dio che Dio è sovrano per quanto Satana può mandare ostacoli nella tua vita lui non può fermare Dio da operare nella tua vita Dio porterà a termine la sua opera porterà al compimento non preoccupati di Satana guarda a Dio con fede questo è il messaggio da ricordare da Atti preghiamo Signore voglio ringraziarti voglio ringraziarti che tu sei sovrano che tutto quello che Satana cerca di fare non può ostacolarti minimamente da compiere tutto la tua volontà in noi e nel mondo ti ringrazio Padre che tu salvi persone non per qualcosa che facciamo noi ma per la potenza della tua parola e lo Spirito Santo che colpisce i cuori delle persone lo stesso messaggio predicato all'Istra Iconio eccetera suscitava fede in certi ed odio in altri e così succede anche oggi aiutaci aiutaci a non avere timore quando vediamo molto opposizione ma aiutaci Padre ti prego darci franchezza che possiamo proclamare chiaramente la tua parola davanti all'opposizione sapendo che tu salverai tutti coloro che tu hai dato a Gesù allora allora Padre grazie per la verità qui fa sì che noi possiamo essere fedeli e essere strumenti nelle tue mani per la salvezza dei tanti glorificati salvando altri e fortifica noi ti prego questo grazie che sei Dio sovrano nel nome di Gesù Cristo ti preghiamo Amen Grazie a tutti